Non è anche un minuto, quindi di volta in volta devo fare delle scelte, ho in questo momento gli attaccanti che sono in grandissima condizione, Sanchez, ma lo stesso Correa è entrato benissimo, prima Geco e Lautaro secondo me ci avevano aiutato tantissimo, quindi di volta in volta devo scegliere, anche l'ingresso di Vidal ci ha dato una mano, Di Marco è stato determinante per il gol, noi dobbiamo continuare in questo modo sapendo che volevamo questo trofeo.